Buonasera a tutti cari amici e appassionati di storia e strategia militare, qui sul canale Storia della Seconda Guerra Mondiale. Questa sera parleremo di tattica di offensiva della squadra e del plotone delle truppe meccanizzate di tipo BMP e motorizzate di tipo BTR dell'esercito russo. Vi ricordo che sono fondamentali per una buona comprensione di questa puntata la prima puntata della serie in cui abbiamo appunto definito che cos'è un'offensiva, che cos'è un attacco secondo la dottrina militare russo. Inoltre è fondamentale il video di simbologia militare dello standard russo. Infatti andremo ad analizzare molti schemi in cui è presente questo standard. A questo punto vi ricordo anche di guardare i video sul reggimento meccanizzato russo, così potrete sapere che cos'è una squadra, che cos'è un plotone di truppe meccanizzate o motorizzate di tipo BMP o BTR. La squadra è nell'offensiva a vari compiti. Quindi ha un obiettivo immediato da colpire o neutralizzare e una direzione di avanzamento e una direzione di avanzamento successiva all'obiettivo. Questo obiettivo può essere formato da diversi oggetti come del personale nemico trincerato, dei carri armati avversari, delle postazioni di artiglieria, dei lanciamissili anticarro, delle mitragliatrici in prima linea e poi tutti altri tipi di obiettivi vicini alla prima linea. Quindi la squadra non si sporge mai troppo in profondità, anche perché non ne ha le immediate capacità. Queste sono le tattiche di una squadra piedata. Le tattiche di movimento. Ricordiamo che quando una squadra BMP o BTR viene appiedata, scendono tutti i membri dell'equipaggio, tranne l'autista, il cannoniere e il capocarro. Tra le persone che ritroviamo al suolo c'è ovviamente il caposquadra, il mitragliere, il granatiere, l'assistente al granatiere, il fuciliere esperto e il fuciliere normale. La squadra a piedi si divide in due gruppi fondamentali, un gruppo di fuoco e un gruppo di manovra. Il gruppo di fuoco, lo dice il nome, sarà quella parte della squadra che appena piedata aprirà il fuoco sul nemico, mentre il gruppo di manovra sarà quello che si sposterà per andare a ingaggiare il nemico in una seconda posizione. Generalmente i soldati del gruppo di fuoco, proprio per non attirare il fuoco concentrato del nemico in un solo punto e rischiare di essere interamente bersagliati, si dispongono su una linea che va dai 6 agli 8 metri tra i due soldati. Quindi la larghezza dello schieramento di una squadra piedata può andare anche fino ai 50 metri, proprio per rendere difficile al nemico bersagliare la squadra. Vediamo quindi che tra il gruppo di fuoco, che è questa parte qua della squadra, riscontriamo qua il mitragliere dotato di mitragliatrice leggera. Abbiamo il leader della squadra, il granatiere e l'assistente del granatiere, che ovviamente si muovono in coppia. Nel gruppo di manovra iniziale troveremo il capo dei fuciglieri e due fuciglieri normali. Ora vediamo di capire come avviene l'appiedamento della squadra BMP o BTR in questione. I primi a scendere sono gli assistenti del mitragliere ed il fuciliere esperto, questi qua che sto evidenziando. Ricordiamo che il leader della squadra scende sempre per ultimo, perché nel mezzo sta nella parte anteriore, e deve, quando appiedato, comunicare con il cannoniere e l'autista. si posiziona sempre in un luogo in cui può essere visto da tutti e comunicare tramite voce, radio o segni. ricordiamo che però questo dato è contrastante con la fonte che abbiamo analizzato per la spiegazione della composizione dell'organico e dell'equipaggiamento del reggimento meccanizzato russo. Per un semplice fatto, la fonte che abbiamo usato in precedenza è risalente agli anni 90, e quindi in questa analisi che tratta da una fonte del Foreign Military Security Office, risalente agli anni 2010 circa, mi pare al 2016, se non vado errando, si presume che i russi abbiano potuto dotare il loro leader delle squadre piedate finalmente di radio, una cosa più che necessaria. La distanza tra i soldati, come abbiamo visto, è sempre tra i 6-8 metri. La distanza totale può andare fino a 50 metri, come visto prima, però è importante che non limiti la potenza di fuoco della squadra, cioè il fuoco concentrato che possono fare i soldati sull'obiettivo, e limitare di troppo la comunicazione. L'aggiustamento del fuoco avviene anche tramite l'uso di munizioni traccianti, cioè per bersagliare il nemico e sapere dove si spara, si possono usare munizioni traccianti per averne un'idea più chiara. In guerra ricordiamo che sembra un problema capire se si sta colpendo effettivamente il nemico quando gli scontri non sono a distanza così ravvicinata, specialmente con dei fucili come è dotato l'esercito ruxo, ovvero gli AK-47 che hanno una velocità alla volata piuttosto bassa, nelle lunghe distanze si tende ad avere un maggior scarto e una maggior possibilità di errore perché il tiro risulta meno teso, che ad esempio una munizione in 5,45 oppure un 5,56 NATO. Giusto per citare, ed è per questo che, come abbiamo visto nella precedente analisi, sull'organizzazione dei materiali di equipaggiamento del reggimento meccanizzato russo, sono già presenti degli AKM-74 appunto in 5,45 per ovviare questo problema. Inoltre, c'è da dire una cosa molto importante a livello logistico. La munizione in 5,45 sembra stupido ma pesa di meno che una in 7,62. Cosa significa? Che usando, cioè trasportando lo stesso peso di munizione, ti porti dietro più colpi e hai una potenza di fuoco maggiore di conseguenza. Qua vediamo come agisce, secondo il manuale di tattica, una squadra di fanteria meccanizzata o motorizzata di fronte a un ostacolo che forma un evidente collo di bottiglia, come qua in centro. Può essere ad esempio un muro, un fosso, di qualsiasi tipo si voglia. Allora, innanzitutto procedono a muoversi il gruppo di manovra, come specifica il nome. Il gruppo di manovra oltrepassa l'ostacolo e assume delle posizioni di ingaggio giusto alla sinistra. Mentre il gruppo di fuoco copre il gruppo di manovra durante il movimento, finito l'appostamento del gruppo di manovra, come vediamo già a destra, è a questo punto il gruppo di manovra che assume postazioni di fuoco di copertura e soppressione per permettere al gruppo di fuoco di oltrepassare l'ostacolo. Nel mentre di questa operazione il mezzo, BMP o BTR che si voglia, mantiene sempre delle posizioni di fuoco, di soppressione o comunque per tenere impegnato il nemico in modo da coprire la squadra piedata. In questo caso possiamo vedere altri esempi di movimento di una squadra, ad esempio in terreno aperto o tra le boscaglie. Qua abbiamo ad esempio degli alberi e qua abbiamo un terreno con visibilità aperta. Che succede? Che la squadra fornisce sempre copertura contro la fanteria al suo mezzo di trasporto per difenderlo da eventuali lanciamissili anticarro, personale anticarro, eccetera. Tutto quello che potrebbe danneggiare il suo veicolo, che è una parte fondamentale della squadra. In questo caso la squadra di supporto, come vediamo qua, si muove nel campo aperto, mentre la squadra di manovra fornisce soppressione. In questo caso abbiamo anche ad esempio un rilievo, come può essere una collina, in cui il veicolo viene a posizionarsi dietro e da questa posizione con lo scafo più o meno nascosto può anche supportare la squadra con appunto del fuoco di soppressione. Comunque la squadra deve sempre fare in modo che il suo mezzo sia nascosto o da elementi naturali o nel caso in cui non si possa, come nell'esempio di sinistra, il mezzo venga coperto da eventuali minacce. Qua possiamo vedere quali sono le tattiche previste per il plotone di fanteria meccanizzata russa. Comunque gli obiettivi di un plotone sono sempre in linea con quelli della compagnia. Gli obiettivi principali possono anche questa volta essere personale trincerato, artiglieria, missili anticarro, postazioni di mitragliatrice o altre componenti allocate nella prima linea e in tutta la sua profondità, cioè in tutto quello che riguarda la parte essenzialmente combattiva della prima linea. Un plotone ha anche lui un obiettivo, una direzione da seguire, una posizione di marcia, uno schieramento. Il plotone può agire sia alle dipendenze di un'altra unità, come ad esempio la sua compagnia, oppure in riserva al battaglione. Il battaglione ha sempre un plotone di riserva che può schierare opportunamente nel posto più bisognoso sul fronte. Il plotone, inoltre, a livello di battaglione può agire anche in modo indifferente, come un gruppo di assalto, un'avanguardia per un raid aereo, oppure una pattuglia di ricognizione, come vedevamo quando abbiamo spiegato l'avanzata del reggimento meccanizzato russo, con l'autoblindo BRDM2 nell'avanguardia della pattuglia di ricognizione, formata da dei plotoni appunto. Il plotone, come abbiamo visto, può operare come parte integrante di una compagnia, oppure può dare enfasi in un punto di attacco, oppure può essere una pattuglia di ricognizione, o parte della compagnia di armi combinate di un battaglione. C'è sempre una compagnia in ogni battaglione che ha diversi sistemi d'arma al suo interno. Il plotone, inoltre, può essere assegnato alla distruzione del nemico tramite fuoco diretto in vista di una futura offensiva, come abbiamo già detto nel primo video parlando dei due tipi di offensiva. La larghezza dello schieramento di plotone è circa di 300 metri. Inoltre, l'offensiva è formata da una formazione schieramento di combattimento, un sistema di fuoco e sistemi di comando e di controllo del plotone. Vediamo ora come avanza, in situazione di combattimento, un plotone meccanizzato. Abbiamo la prima compagnia meccanizzata, nell'esempio. L'immediato obiettivo del primo squadrone della compagnia, cioè dello primo scaglione, è di distruggere tutte le forze nemiche nel primo schieramento della linea nemica. Si può arrivare a una profondità nello schieramento nemico fino a 500 metri. Dopo che questa prima parte è sfornata su attacco, diciamo, sussegue immediatamente la seconda parte, il primo plotone. Nel primo plotone abbiamo i mezzi BMP o BTR, ad esempio, il cui compito è proprio la distruzione di trincee, installazioni, fortificazioni, pezzi di artiglieria, postazioni di mitragliatrice, eccetera. Qua vediamo un plotone inserito all'interno della sua compagnia, del suo gruppo di plotoni. Quindi abbiamo detto abbiamo un fronte di 300 metri e le varie squadre che occupano un fronte di 50 metri. E qua sta il posto di comando, il quartiere generale di compagnia, sempre nella retrovia. Vediamo più nel dettaglio quello che abbiamo appena spiegato nella scorsa videata, cioè l'avanzamento in linea di una formazione di plotoni. Abbiamo queste figure presenti nello schema. Questo modificatore indica l'assistente granatiere. Poi abbiamo il solito granatiere, il fuciliere esperto, il fuciliere normale, il leader di plotone, il leader della squadra, poi ovviamente il mitragliere e il marksman, che non è un cecchino, come avevamo già detto nei primi video, ma è un tiratore scelto. Ed è una cosa totalmente diversa. Il cecchino agisce a lunghissima distanza, si parla a circa di un chilometro. Il marksman è specializzato nel neutralizzare bersagli ad una distanza immediatamente superiore a quella consigliata dalle normali carabine. Poi abbiamo l'assistente mitragliere. Come è formato il fronte in linea dei plotoni, abbiamo la squadra, 50 metri tra una squadra e l'altra, ed un'altra squadra. Nella seconda linea, giusto dietro ai plotoni, cioè scusate, giusto dietro alle squadre appiedate che avanzano, abbiamo appunto il marksman, il capo squadra, e poi dopo dei sistemi AGS-17 lanciagranati automatiche. Quindi abbiamo delle squadre meccanizzate qua davanti, un posto di comando e di controllo, fuoco di supporto con queste installazioni, e possiamo avere degli avanzamenti in linea. Oppure il fianco destro, cioè una linea orizzontale mezzo cuneo, mettiamo fianco sinistro, oppure cuneo normale, cioè a punta di freccia, come sto facendo adesso sullo schermo, oppure un cuneo invertito, a forma di V. Possiamo avere una distanza tra i due veicoli delle squadre, fino a 100 metri. Lo schieramento di combattimento e l'avanzamento dei plotoni può essere sia in formazione appiedata, oppure sia su veicoli. La fanteria può anche rimanere a bordo dei veicoli. Se questo plotone costituisce la riserva della compagnia, avanza due chilometri dietro il fronte principale. In questo caso possiamo notare come avviene l'appiedamento di un plotone e del relativo gruppo di comando che, come si evince dal nome, comanda il plotone e il gruppo di fuoco di supporto, che dirige tutto il fuoco di suppressione. generalmente il gruppo di comando e il gruppo di controllo stanno, cioè il gruppo di comando e controllo e il gruppo di supporto di fuoco, questo, rimangono sempre 50 metri distanti dalla formazione dei fanti. L'appiedamento avviene come possiamo notare dall'immagine, ricordiamoci, sempre i vari segni riportati da leggenda. Abbiamo le squadre che si dividono, come abbiamo visto, in gruppo di manovra e gruppo di fuoco. Poi abbiamo una squadra che contiene il gruppo di comando e il gruppo di supporto, come vediamo qua. Gruppo di comando e gruppo di supporto. E inoltre abbiamo sempre i soliti gruppi di manovra e gruppi di fuoco per ogni veicolo corazzato. Abbiamo un ulteriore schema riassuntivo della formazione di combattimento in linea in cui abbiamo le varie squadre distanti un centinaio di metri tra loro nel mentre che avanzano verso il nemico a bordo dei loro mezzi di combattimento. Questa volta le squadre non sono dispiegate. Ricordiamo che ogni plotone può richiedere, in caso di necessità, di avere nel proprio organico degli ulteriori mezzi offensivi, come ad esempio i lanciagranate automatici AGS-17, dei sistemi missilistici anticarro, dei lanciafiamme, degli esposativi contraerei, unità del genio militare, un carro armato e un'unità NBC. In questo caso possiamo vedere un esempio pratico di come avanza un plotone in caso si trovi davanti ad un campo minato con una breccia sicura. Quindi abbiamo quattro primi stadi. All'inizio abbiamo le squadre dietro il campo minato sotto il fuoco nemico diretto. Quindi le squadre vengono piedate, mentre i BMP in questione forniscono fuoco di soppressione ed impegno sul nemico. Il gruppo di manovra della prima squadra oltrepassa la breccia, come si vede, scusate, prendo il laser, il gruppo di manovra della prima squadra sorpassa la breccia, si installa e fornisce fuoco di copertura, nel mentre si muove il gruppo di fuoco della prima squadra. E così avviene per la seconda, terza e quarta squadra. A questo punto passano per ultimi il capo del plotone, il sergente del plotone, il marksman e altri personaggi di supporto come abbiamo visto nella videata precedente. Ad esempio, ci può essere un granatiere di una GS-17 oppure un lanciafiamme o un lanciamissile di carro, ad esempio. Detto questo, detto tutto, vi auguro una buona serata. Prossimamente continueremo questa miniserie parlando delle tattiche di offensiva a livello di compagnia, battaglione, reggimento, eccetera. Poi per passare a una serie sulle tattiche di difesa, sempre continuando la serie sulle armi che sono in dotazione alle truppe meccanizzate e motorizzate russe per poi parlare dei mezzi. Purtroppo questo mio intento è di fare un'analisi parecchio approfondita e dettagliata sulle varie capacità militari di questo tipo di truppe russe, il che richiederà parecchi video, parecchio tempo, o comunque mi auguro che prossima settimana, tempo permettendo, riusciremo ad andare un pelo avanti con la faccenda. Vi auguro a tutti una buona serata, date un'occhiata alle fonti, fatemi sapere che cosa ne pensate o se avete altre fonti da cui trarre insegnamenti utili da condividere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!